ciao ragazzi siamo qua su area f2 come potete vedere il gioco è uscito su mobile sia per android che per ios il gioco è un free to play quindi potete scaricarlo tutti sui posti store e niente il gioco è un rainbow six versione mobile si può dire con tutti gli operatori e quant'altro abbiamo per una settimana gli operatori in maniera del tutto gratuita appunto per farli provare sicuramente poi diventeranno a pagamento e niente vi lascio al video spero che vi piaccia ci vediamo prossimamente ciao controllo uav to search for the target location during the preparation phase target location found 15 seconds until the battle starts 10 seconds left 5 seconds left protect the target in the battle phase 5 6 6 6 7 8 10 10 8 10 10 11 12 13 13 13 16 15 16 16 15 Grazie a tutti. Grazie a tutti. 15 secondi, fino a la battle start. 10 target location ha stato trovato. 5 secondi, left. 5 secondi, right? 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 6 secondi, right? 6 secondi, right? 5 secondi, right? 5 secondi, right? 1 secondi, right? Contro la UAV per cercare la locazione del target durante la preparazione fase. Trocate la locazione del target durante la preparazione del target durante la preparazione. Trocate la locazione del target durante la preparazione. Trocate la locazione del target durante la preparazione 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 del target. Oh, 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 oh